In occasione della Settimana Santa si è svolto presso la Chiesa San Francesco di Agropoli un bellissimo concerto di musica sacra, La Passione di Cristo. L'evento, organizzato dal coro Concordia Vocum, diretto dal maestro Massimiliano D'Agosto, ha visto la presenza del soprano Nicoletta D'Agosto, del tenore Ellanz Miglino e dei flautisti Fedele Ciccarino, Francesca Tardio e Benedetta Di Marco, che sulle note delle musiche di Mozart, Bach e Vivaldi hanno allietato il pubblico presente. Chiesa San Francesco di Agropoli Chiesa San Francesco di Agropoli Chiesa San Francesco di Agropoli